Dobbiamo fare accordi, la Spagna li ha fatti con il Marocco, l'Italia li ha fatti con la Libia, bisogna andare avanti in questa direzione, ma serve una strategia europea, altrimenti il problema di migrazione non si risolverà. Serve una strategia europea e questo credo che i cittadini lo capiscono, quindi le chiusure elettoralistiche dentro i propri confini non servono assolutamente a nulla, rischiano soltanto di peggiorare la situazione.